Anno nuovo, aria vecchia. A qualche giorno dall'inizio del 2018, venerdì 5 gennaio, i valori delle polveri sottili sono tornati a sforare i limiti, superando i 50 microgrammi al metro cubo alla stazione Giordani Farnese in centro a Piacenza. Stessa situazione a Lugagnano nella giornata di sabato, mentre grazie alle piogge di ieri tutti i valori sono rientrati nella norma. Con la fine delle festività natalizie è tornato pienamente in vigore l'accordo interregionale sulla qualità dell'aria. La domenica ecologica però è slittata dal 7 al 14 gennaio. Domenica dunque i veicoli più inquinanti non potranno circolare. Intanto sono entrati in vigore alcuni nuovi provvedimenti. Con l'avvio del nuovo anno, nei pubblici esercizi e nelle imprese, è obbligatorio mantenere chiuse le porte di accesso al pubblico, al di là del tempo strettamente necessario per ingressi e uscite, quando è in funzione l'impianto di riscaldamento. Per i trasgressori sono previste multe fino a 500 euro. Lo stesso varrà per l'inadempienza al divieto di utilizzare combustibili solidi per il riscaldamento domestico in camini, stufe e caldaie con efficienza energetica inferiore al 75%, nonché nei caminetti che possono funzionare aperti. Il provvedimento riguarda soltanto gli edifici in cui sono presenti anche altre fonti di riscaldamento.